L'acquisto di una casa è una delle operazioni economiche più importanti nella vita di una persona. È necessario armarsi di tanta pazienza e soprattutto acquisire un minimo di competenze per fare la scelta più giusta. Per districarsi tra regole da seguire e pratica cui adempiere è nato uno strumento ad hoc, la Guida Pratica alla Locazione e alla Compravendita Immobiliare Casa ai Giovani. La pubblicazione è stata realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e da Confedilizia, associazione dei proprietari di casa. L'obiettivo è quello di accompagnare e orientare le giovani generazioni nella scelta della soluzione abitativa più adeguata alle proprie esigenze. I Notari si rivolgono ai giovani e pensano alle esigenze della New Generation, in questo caso nell'ambito della casa e quindi oggi si presenta una guida che è stata preparata con l'associazione Confedilizia, che è un'associazione storica dei proprietari, per aiutare i giovani nell'acquisto della casa e anche nel prendere in affitto una casa. Quindi è una piccola cassetta degli attrezzi. La situazione congiunturale tuttavia non è favorevole. C'è da fare i conti, soprattutto con l'aumento dei tassi bancari. L'inanziamento dei tassi è costante ormai da qualche mese e questo disincentiva l'accesso al credito, rende più difficile soprattutto per i giovani che non hanno una capacità reddituale importante anche per via della congiuntura, della difficoltà a trovare un lavoro a tempo indeterminato. Quindi da questo punto di vista credo che sia un problema. Fondamentale resta dunque la figura del notaio per essere tutelati e avere suggerimenti utili in questo percorso tra proposte d'acquisto, contratti preliminari, caparra, mutuo, rogito e via discorrendo. Acquistare una casa è una procedura estremamente complessa. La guida offre strumenti di conoscenza di base, ma non si può rinunciare ovviamente all'aiuto di professionisti sia dell'area tecnica sia dell'area legale. E fortunatamente nell'ambito del settore immobiliare i notai hanno un ruolo centrale perché questo lo prevede il nostro ordinamento e quindi anche un osservatorio sicuramente privilegiato per poter anche in futuro promuovere iniziative dirette alla realizzazione di strumenti più idonei, più duttili per soddisfare le esigenze dell'accesso dei giovani alla soddisfazione del bisogno primario della casa. La guida è anche dotata di QR code che la rende facilmente scaricabile dal sito www.notariato.it e www.confedilizia.it